Musica Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio Allora, allora, avevamo messo a fare una pergamena se non mi sbaglio Vediamo se è uscita Vediamo un po' E' chi te la chi, e' chi te la chi La void c'è, no la void, la void, dark infuser, e' chi te la chi Allora, cinque pezzi di ossidiana, due pezzi di ferro, un cristallo, e voilà Allora, prendiamo un cristallo, cinque pezzi di ossidiana, che non abbiamo Due di ferro e una slow slab Allora, prendiamo cinque pezzi di ferro, abbiamo detto, si vabbè, si Due pezzi di ferro, cinque di ossidiana E una slow slab, che ce l'abbiamo Stone slab, che cavolo sto dicendo Ok Dovremmo avere il tutto ciò No, manca la, ok Grazias Vediamo un po', allora, abbiamo detto, una di questi Un cristallo, due pezzi di ferro E cinque ossidiana Perfetto Non viene Porca trota Perché? Perché? Ah, serve il tinted, tinted, tinted crystal Porca trota, la cotoletta Il tinted crystal, ce l'abbiamo adesso Ok, lo abbiamo, lo abbiamo Lo abbiamo Dem, dem Vediamo un po', voilà Dark infuser Dark infuser Lo andiamo a piazzicare lì vicino Lasciamo la pergamena, che non ci serve più E piazzichiamo il dark infuser qua Tancete Allora, questo è l'infuser normale Mentre questo è il dark infuser È diverso e si fanno cose un pochino più potenziate Logicamente bisognerà mettere i tubi anche lì sotto Per cui Spacchiamo chi Chi E chi Lì piazzichiamo il tubo E voilà Gli rimettiamo questi Perfetto Sì, va bene Va bene Mettiamo via i tubi Ok Possiamo andare Cosa fare oggi? Cosa fare oggi? Metterei a fare un'altra pergamena Sinceramente Ma prima faccio la nanna Buongiorno Allora, sinceramente ragazzi Vorrei fare un altro esperimento E qua Un asino! Un asino! Una Wow Non ho mai visto l'asino Ho rotto pure la spada Mi hanno detto che con la motosega È peggio di una spada Ma non droppa niente Bah Vabbè, comunque dovremmo avere una spada di scorta Dovremmo avere una spada di scorta Mettiamo via questo E prendiamo una spada Echitela chi Ok Dicevo un altro esperimento Per cui Togliamo tutto qui Togliamo tutto Buttiamo giù questo Ok Buttiamo giù tutto Dai, dai, su Perché sto consumando la motosega? Pirla Devo mettere a caricare la Il coso lì Allora, allora, allora Ora, tutta questa roba Io la andrei a piazzicare Chi drento chi Perché tanto non ci serve Allora, via, via, via Via le pannocchie E via anche questo E via anche questo Vediamo un po' che succede Che ha chiuso la porta Ok Allora, raccogliamo qua Rompiamo questi Via uno Madonna Che casino Che Ma non mi ha dato Ma non mi ha dato Ah, è lì a terra E adesso E adesso Porca trota Io allora Ho un'idea Ho un'idea Prendiamo questo qua Questo è mio figlio Che parla in arabo Dove cavolo ho messo lo zaino Eccolo qua Mettiamo via tutto Questa roba Chi Ok Anche questi Via Dovrebbero andare via Sinceramente Ok E poi rompiamo qua Dai, dai L'è un po' dur Perfetto 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 Ora Mettiamo via anche questi Questi semi Perché è rimasto tutto qui Vabbè, vedremo dopo Prendiamo queste robe Chi Ah, ma ragazzi Mi si è consumato Il cosoli Questo qua Il backpack Infatti Andiamo a caricare Vediamo se abbiamo energia Prima di tutto Qua dovremmo anche finire L'impianto energetico Dove cavolo sto andando? E' chi drento chi? Allora Vediamo un po' 40.000 Carichiamo prima Il backpack E poi carichiamo Anche questi due attrezzi Intanto ragazzi Vi dico che Se andate sul mio forum Abbiamo cambiato Il video tutorial Con il launcher Abbiamo cambiato anche il launcher Perché molti di voi Non riuscivano a far partire Il pacchetto E la maggior parte Cioè tutti sono SP Quelli che non riuscivano Perché ai premium Funziona a tutti Mentre ora Abbiamo scoperto Che il problema Era proprio il launcher E lo abbiamo cambiato Se andate sulla mia pagina Fai Sulla mia pagina Di sito Che trovate in descrizione Noterete che il tutorial È cambiato E anche i link Per cui Andateli Andateli Allora Questo è fatto Carichiamo un po' La motosega E possiamo partire Tanchete Oh Dove l'ha messa Mettiamo su Il backpack Perfetto Possiamo Continuare il lavoro Allora Prima di tutto Vorrei ordinare Altre Di queste qui Vediamo un po' Quante ne abbiamo Anzi no Ne dovrei avere Un po' qua dentro Se non mi sbaglio Non vorrei sbagliarmi eh E infatti mi sbaglio Non c'ho più le rotaie Porca trota Vabbè Nessun problema Eccole qui Ne prendiamo 71 Boh vediamo un po' Aspettiamo Dovrebbero arrivare A momenti Allora 15 18 37 41 39 22 47 54 69 77 28 31 Ah il nonno Questo è il nonno che chiama Il nonno che chiama Perfetto Arrivo nonno Madonna Oh oh Carciofo Dai Shrek muori Che c'è il nonno che mi chiama Madonna 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 Quanto è diventato Ragazzi Inizia a fare paura Sto nonno qua eh Le sono sincero Allora rompiamo Tutti questi Ecco Non così Possibilmente Ecco Un altro Un altro Io so già ragazzi Quello che so per fare È un esperimento Che poi alla fine Dovrò distruggere ancora Perché non funzionerà Tutti i miei esperimenti Non vanno Allora La terra Rimettiamo a posto qui Facciamo una cosa del genere Dove sono Qua Le mettiamo qui Così Poi facciamo così Ok Poi andiamo Di lì Ne ordiniamo altre Non mi ricordo Quante in ordinate Ok Ho quasi finito In poche parole Ho fatto tutto il giro Della casa Voilà Continuiamo Poi dobbiamo controllare Anche i query Ragazzi Perché È un po' che non li controllo Allora Andiamo lì E abbiamo quasi Finisciuto Perfetto Ora però Io qua Vorrei rompere Qui E rompere Qui Mettere questi due Uno E uno due E poi mettere questi qua Uno E uno due Ri-regolarli Sicuramente Allora Qua nel rosso Qua nel rosso Li mettiamo Come prima E però Dobbiamo mettere Anche giù Questo qua Voilà Li rimettiamo così Li mettiamo Il carbone Intanto lui Inizia a fare Tutto il giro Bye bye Allora Qua li mettiamo Avevamo detto Avevamo detto Allora Mettiamo i semi Poi questo Lo facciamo diventare rosso E li mettiamo Le pannocchie No Deve lasciare i semi No Deve lasciare le pannocchie No Le pannocchie Li mettiamo dall'altra parte Allora Li mettiamo Il bombil Che però sinceramente Il bombil Non mi interessa Li mettiamo l'acqua Perfetto E di qua Lasciamo così Un attimo Qua li mettiamo Il Facciamo al contrario E li mettiamo Le pannocchie Perfetto Vediamo se funziona Allora Escono i semi Esce quello Perfetto Però qua li mettiamo Anche Che deve lasciare i semi Vediamo se funziona Stavolta Rosso I semi Ok Vediamo un po' Dobbiamo mettere dentro Un secchio d'acqua Vero Me lo dimentichetto Gliene mettiamo due E va a farti fottere Acqua 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 Qua Uno E Uno Sette Aia Che bot Che legupre Uno Uno Due Perfetto Dove andato a finire il coso Ah Eccitolo chi Come mai Azzo 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 Ma come ho già piantato Dove ho preso i semi Ah Spianando ho trovato i semi Però vedete che non cresce Perché non c'ha l'acqua dentro Non ha l'acqua dentro Non ha dentro l'acqua Se io adesso li metto dentro l'acqua Vediamo un po' Quel cavolo sono i secchi d'acqua Ah li ho messi di là Vabbè Aspettiamo che arriva allora Devo mettere anche che deve lasciare i secchi vuoti Deve lasciare i secchi vuoti Allora rosso E li mettiamo i secchi Vediamo un po' eh Che succede Allora va qui Vediamo un po' Non lascia niente Perché non c'ha niente Poi va qui Ah già Devo mettergli i semi Pirletta Perfetto Non ha preso i semi Gli rimettiamo noi Gli mettiamo dentro i semi Perfetto Vedete che adesso non si toglie più Perché Logicamente ha All'acqua dentro E ci siamo Dovrebbe funzionare Dove fare il giro di tutta la casa È solo che sti boob for the win incendiano tutto Porca trota Guarda dov'è Guardate Ma va a caccare va Oh nonno Nonno che combinato Via orso Soldi Solo soldi mi ha dato Sì Mi ha dato solo soldi Buono Mettiamo via altri soldi Guardate quanti soldi ragazzi Dovremmo andare a cercare Quello lì che vende le cose Per forza Bene ragazzi Anche per questo episodio è tutto Mettiamo via tutta sta roba Mi cavo Devo sistemare tutto qua dentro io Devo sistemare tutto No Vi dico intanto che Da Luke è tutto E tenetevi pronti perché Nei prossimi episodi Inizierò a fare cose Un pochino più grosse Ciao a tutti Ciao a tutti